Musica Chiusura e rialzo per Piazza Affari che termina le contrattazioni con il Fuzzi Miba più 1,01% e lo Shara più 0,91%. Bene il settore bancario con l'eccezione di Monte dei Paschi di Siena meno 8,19% dopo lo scandalo derivati. Brilla Unicredit più 4,16%, La Popolare dell'Emilia Romagna più 4,02%, Ubibanca più 3,42%. Fuori dal comparto bancario guadagna posizioni Azimut più 3,56% e Mediolanum più 3,10%. Male Fiat meno 2,04%, Pirelli meno 1,95% e Parmalat meno 1,12%. Giù anche Toz meno 0,97% dopo la pubblicazione dei conti. Lo spread si ferma in area 267 punti. Positive le principali borse europee, Londra si ferma più 1,09%, Parigia più 0,7%, Francoforte più 0,53% e Madrid più 0,61%.